5 domande per Robin Good Ah Robin, ma dove stai? Vivo sull'isola di Terseira, nell'arcipelago delle isole azzorre Sto a metà strada quasi fra il Portogallo e gli Stati Uniti Questa è un'isola grande, 20x20 km, dove abitano 50.000 persone Come mai sei andato a vivere là? Sono venuto qui per la natura bellissima, la grande pace e tranquillità che c'è e la possibilità per me di concentrarmi sui progetti che mi stanno maggiormente a cuore Credo che la miglior definizione di quello che faccio sia Communication Designer Colui che aiuta le aziende, le persone a comunicare in maniera efficace attraverso internet ed altri media Di che cosa ti occupi? Mi occupo specificamente di strategia, comunicazione, apprendimento, marketing Ma soprattutto mi appassiona moltissimo il dare una mano agli indipendenti Ai piccoli, a coloro che hanno non solo grandi idee Ma grande voglia di fare, di sperimentare e di mettersi in discussione Scusa Robin, ma tu, come guadagno? Il mio guadagno deriva principalmente dalle rette mensili che pagano gli studenti nel Pop Campus Che è la mia piccola scuola online dove seguo una manciata di persone passo passo Nel realizzare i loro progetti di comunicazione o imprenditoriali online Guadagno da alcuni corsi che realizzo e vendo online Da qualche toolkit, cioè una combinazione di risorse, strumenti e informazioni utili per fare qualcosa di specifico E dal partecipare ad eventi, workshop e conferenze dove vengo pagato per poter condividere e presentare le mie idee Ma Giobben, come se va a parlare con Tea? Il metodo più semplice per poter parlare con me è quello di postare sulla mia pagina Facebook Robin Good Italia Rispondo a tutti entro 24 ore Diversamente, se hai qualcosa che non puoi condividere con gli altri Hai una richiesta privata, vuoi avere una consulenza con me o hai bisogno di un'informazione particolare Puoi scrivere a ludovica.scarfiotti.robingood.it Ehi Robin, qual è il tuo sogno? Mi piacerebbe poter girare il mondo, intervistare e raccogliere le storie di tutti coloro E sono riusciti attraverso la condivisione gratuita di risorse e informazioni di vero valore A realizzare il sogno di una vita e a rendersi indipendenti Questo è il mio sogno E se riuscirò a realizzarlo con l'aiuto dei miei fan Sarò l'uomo più felice del mondo E se riuscirò a realizzare il mondo